Buone notizie quindi per i comuni del Veneto, ormai è ufficiale cosa? È ufficiale, abbiamo portato a casa un grande risultato grazie a un emendamento che abbiamo presentato in Commissione Finanze in base al quale vengono estesi i benefici già previsti da questo provvedimento per le zone del Modenese colpite dall'alluvione vengono estesi questi benefici anche ai territori del Veneto colpiti dall'alluvione nel mese di gennaio e febbraio di quest'anno è un atto che dovrebbe essere dovuto ma purtroppo sappiamo che qui se non si alza le voci sopra come tonno a quella degli altri postulanti non si ottiene mai niente, questo era un atto semplicemente dovuto, sacro santo per una regione oltretutto che oltre a essere stata duramente colpita da queste alluvioni dà tantissimo a questa nazione, basta pensare che il residuo fiscale della nostra regione è di 21 miliardi noi regaliamo all'Italia ogni anno 21 miliardi, solo questo dovrebbe dare al Veneto, al suo popolo un'attenzione superiore a quella che invece siamo costretti a richiedere con forza qui a Roma